Al di là di varie scelte industriali che sono state compiute nella regione Puglia, vi è una evidente vocazione rurale del territorio pugliese e di quello tarantino nello specifico. Come promuovere, tutelare e rilanciare la nostra agricoltura? Abbiamo visto il dramma della Xilella. Ne parliamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale pugliese, con la Lega a sostegno di Raffaele Fitto, Presidente. Sì, bisogna assolutamente rilanciare questo settore che io ritengo fondamentale per la provincia di Taranto, proprio perché non sia la grande industria l'unica fonte di sostentamento. Ma per fare questo sicuramente bisogna cambiare tanto. La regione in questi cinque anni è stata assente ad essere buoni, molte volte dannosa. La notizia della perdita di oltre 100 milioni di finanziamento per il PSR è sotto gli occhi di tutti. Da poco c'è stata una sentenza del Tar che ha messo una piccolissima parte al finanziamento rispetto a tutti gli agricoltori che avevano chiesto i finanziamenti. Per cui veramente è stata una doccia fredda per tutti gli agricoltori questo tipo di politica svolta dalla regione Puglia. A questo va associato anche una mancanza di personale negli uffici territoriali, per cui molto spesso le pratiche degli agricoltori rimangono lì, non per colpa sicuramente dei dipendenti, ma a causa del loro esiguo numero. E poi è mancato e manca da parte della regione Puglia una visione di insieme. Cioè bisogna comunque anche dare delle linee da seguire, così come è stato fatto per la viticultura, per l'uva da vino, che sono la creazione, che si sono create tante cooperative che danno lustro al nostro territorio. Anche per l'agroalimentare occorre fare la stessa cosa, creare dei punti di produzione che possano, mi riferisco in particolare all'uva da tavola, che possono avere quella dignità di diventare dop, di dare una peculiarità al prodotto territoriale e questo è quello che dobbiamo cercare di fare.